Sì, fai più! Non lo scordare, fai! Ti dico che su 100 ponti ci sono qua dentro, 90 sono negli attari. No, veramente, caso per il 100% dello stabilimento, mi sa che 90 è rottame. 90 è rottame! Perché l'altro 10% è scotch di manutenzione, perché da tempo oramai andiamo avanti a scotch. Già perde quel tubo! Lo scotch ce l'avete? Via! Chi fai più? Non lo scordare mai! Che a Torino ci sono gli operai! Che a Torino non lo scordare mai! Che a Torino ci sono gli operai! Un anel nero per quando il giro ti vuole essere. Signora luna che mi accompagna per tutto il mondo. puoi tu spiegare? C'è stato un incidente. C'è stato un incidente. C'è stato un incidente. C'è stato... C'è stato qui in azienda un incidente. Cioè, quel giorno stesso ho capito che sette dei miei colleghi erano morti. a Torino. A Torino. A Torino. A Torino. A Torino. A Torino. Once O Sachillo... È incontroverso un incidente.